ecco delle forbici in acciaio inox professionali specifiche per barba e baffi sono made in italy prodotte a premana in provincia di lecco una delle due lame è zigrinata ecco questa zigrinatura serve per non far scivolare il pelo nel momento in cui si va a tagliare grazie per l'attenzione ci rivediamo al prossimo video